E all'arta caldo con temperature previste fino a 40 gradi ad Arezzo in tutta la Toscana nei prossimi giorni, le previsioni meteo parlano chiaro. Secondo le previsioni di Trebbi Meteo, sarà venerdì la giornata più calda, dove la massima dovrebbe raggiungere i 38 gradi, senza contare il fatto che poi le temperature percepite superano i 40 gradi. Leggero calo, sabato 29, poi il nuovo picco che durerà diversi giorni, temperature che poi si stabilizzeranno nelle massime a 37 gradi per tutta la prossima settimana, prima di un calo di 5-6 gradi, previsto per sabato 6 luglio. Attuali come non mai, dunque, i consigli dell'ASL Toscana Sud-Est, che rinnova l'appello all'attenzione alla necessità di adottare comportamenti corretti per evitare i colpi di calore, soprattutto per i pazienti cosiddetti fragili, cioè le persone sopra i 75 anni, i disabili, malati cronici, persone che fanno uso abituale di farmaci, neonati, bambini molto piccoli. I sintomi del colpo di calore sono mal di testa, debolezza, nausea, sete intensa, crampi, confusione mentale, dolori al torace, tachicardia, innalzamento della temperatura corporea e perdita di coscienza. Nel caso in cui si verifichi un malore dovuto al caldo, bisogna subito chiamare il 118 e nel frattempo far distendere la persona in un luogo fresco, sollevare le gambe, fare bere molta acqua, abbassare la temperatura corporea, bagnando con attenzione il viso e il corpo. I pronto soccorso della provincia di Arezzo sono già preparati e predisposti con un assetto organizzativo in grado di affrontare un eventuale aumento di accessi causati dalle alte temperature di questi giorni.